Le energie alternative agli idrocarburi e alle risorse ambientali denominate energie rinnovabili verdi, bianche e blu attraggono sempre più numerosi ricercatori e gruppi investitori nazionali, fondi di investimento stranieri verso la valorizzazione delle cosiddette fonti energetiche inesauribili, rinnovabili o per dirla in sintesi più comprensibile, risorse liberi presenti nella superficie dell'acqua e del mare Mediterraneo e degli spazi ancora disponibili della sottostante piattaforma continentale internazionale sottoposta alla sovranità nazionale italiana. Acqua, aria e sole sono stati e rimarranno per sempre le prime e più potenti energie delle quali gli esseri viventi possono godere liberamente, fermo restando l'obbligo di stretta osservanza del diritto internazionale, pattizio e convenzionale. Fino a quando il buon Dio lo vorrà, scrive il commissario per la bonifica Emilio Enrigo, potremo beneficiare delle risorse acque e marine del sottostante suolo del sottofondo marino nazionale per scopi di esclusivo interesse economico nazionale in una vastissima area marittima denominata convenzionalmente zona economica esclusiva, già istituita in attesa della prevista proclamazione in Italia. L'acqua, che per sua stessa naturale composizione potrebbe essere denominata anche il carbone bianco, ha costituito e rappresentato per tutti la prima risorsa energetica per la produzione di energia. Poi venne il sole, che opportunamente valorizzato tecnologicamente, ci donò in grandi quantità l'energia termica solare. Infine l'aria non rimase ferma alle sole pale a vela dei mulini a vento, tanto che oggi non è raro vedere in ogni collina o alture montagnose, in brutta mostra ambientale, milioni di pale eoliche girare e girare senza alcuna tregua pacifica, pur di produrre la tanto utile, desiderata, costosa e purtroppo necessaria energia elettrica. Gli ampi spazi della superficie del mare della Calabria, ancora liberi, non è dato sapere fino a quando, da piattaforme marittime di esplorazione, ricerca ed estrazione degli idrocarburi e altri agenti, risorse minerali presenti nella sottostante piattaforma continentale Calabra, saranno in un futuro non lontano interessati da presenza di numerosi investitori e gruppi di origine bancaria, nazionali ed esteri. L'interesse per le aree marine è caratterizzate da bassi fondali tipiche, dei numerosi banchi sottomarini situati nella piattaforma continentale italiana, con batimetriche livellate, omogenee e le coste del mare della nostra amata Calabria, trova fondamento negli istituti giuridici di diritto internazionale del mare, della zona economica esclusiva e piattaforma continentale disciplinati dalla ANCLUS. La Convenzione di Montego Bay, firmata in Giamaica, dai rappresentanti plenipotenziari degli Stati partecipanti aderenti alla Convenzione, il 10 dicembre del 1982, ratificata successivamente anche dall'Italia, titolata Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati atto finale, fatta a Montego Bay, il 10 dicembre 1982, nonché dall'accordo di applicazione della parte undicesima della Convenzione stessa, con allegati fatta a New York il 29 luglio del 1994.